Ciao ragazzi, oggi vorrei cucinare un cibo filippino che si chiama afridada cioè col pollo e le verdure e vi faccio vedere come lo faccio io praticamente pollo e le verdure col sugo di pomodoro quindi è una cosa buonissima e iniziamo aglio io sono sempre in cucina perché se non lo sapete io sono chef e mi piace tanto cucinare perché mi piace mangiare bene quindi cucino perché mi piace mangiare bene però mi piace anche andare a fare la cena fuori quello è il cuoco però mi piace anche la cena poi mettiamo adesso dov'è la cipolla io ogni volta bianco quando taglio la cipolla bianco sempre quindi li prendo sempre lontano solo che in questo momento non lo trovo adesso mi chiamo anche la cipolla e la cipolla e la cipolla deve essere trasparente e dopo tutto friggiamo l'aglio e cipolla 2 minuti 2 minuti dipende e poi aggiungiamo anche il pollo questo il pollo è il mio preferito perché va bene di sazia ma non ti va a ingrasare quindi questo è il mio carne preferito ok ragazzi quando vedete questo colore del pollo potete aggiungere aggiungiamo il pomodoro un po così e poi un po' d'acqua ok ho aggiunto già anche l'acqua così deve essere dobbiamo solo lasciare abolire tutto per 25 minuti con poco medio ad opo baby para naman sa mga friends ko na filipino yun nasa youtube ako princess baril ang pangalan ko sa youtube at nag start na ako mag vlog ngayon nandun lahat ng life ko ng lifestyle ko cooking vlog dance vlog lahat ng mga kaartilan ko sa buhay charot nandun na so sana naman magustahin nyo guys gusto ko lang muli good vibes ang whole world ok ayan kumukulong na siya pwede na natin siya lagyan ng paminta at sya ka ng aset et il mio canal youtube si chiama princess baril e lì ci sono tutto il mio video vecchio nuovo baletto cose varie nella mia vita perchè è già da piccola che sono così perdona peresita ok ragazzi mentre sta cucinando il nostro pollo eccola qua potete anche pulire la cucina perchè io sono in una condizione molto pulita e non mi piace vedere tutte queste schifezze le cose con cui abbiamo usato per tagliarle e venute tutte queste cose qui ok guys adesso possiamo aggiungere le nostre verdure potete aggiungere quello che volete noi invece noi invece noi filipine aggiungiamo le banane carote e pistelli quindi possiamo già aggiungere questo così si cuoce insieme il pollo ok così a piano faccio vedere perfetto così e lo lasciamo per altri 10 minuti che profumo adesso possiamo anche aggiungere le carote e i piselli mio dio che buono ragazzi questo si chiama pollo affrettato alla princess vedi abbiamo anche le patate prendiamo anche questo cosce di pollo che è il mio preferito adesso assaggiamo il nostro pollo con mia sorella vai assaggia io vorrei quello con pesa pesa che buono ho ne potete raga Grazie a tutti.